La Virtus Francavilla continua a cercare un attaccante che possa di fatto completare la rosa degli imperiali a pochi giorni dal debutto in campionato. Dopo aver fatto il possibile per Dionisi e Palermo, il direttore sportivo Biancazzurro Francesco Montervino ha deciso di attendere la fine del mercato dei professionisti. Quello del nuovo centravanti però, a detta del DS, non deve diventare un assillo. L'attaccante arriva se ritengo io che sia il caso di prenderlo per quanto riguarda l'aspetto prettamente tecnico-tattico. La volontà da parte della proprietà di prendere un attaccante forte c'è, ma io mi assumo la responsabilità di quelle che sono operazioni che si fanno e che non si fanno. Perché questa è una squadra che va curato il dettaglio. Dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere bravi a non sbagliare adesso l'ultima pedina per completare questo organico che mi sembra già un organico pronto, forte, importante, serio. Il reparto offensivo, nelle prime due uscite stagionali, ha comunque dimostrato di essere già particolarmente in fiducia. Hanno infatti già trovato la via del gol Pinto, Taurino, Gionai e Diop. All'appello manca soltanto Sosa che proverà a timbrare il cartellino già domenica pomeriggio alle ore 17 alla nuova Redo Arena contro il Manfredonia.